Porta la tua attività sulla più grande web tv della provincia di Pavia. Mezzo milione di persone hanno guardato JAPTV nell'ultimo anno. In poche settimane potrai raggiungere un pubblico molto ampio in modo creativo ed originale. La tua pubblicità comparirà su migliaia di computer, smartphone, tablet e smart tv a prezzi mai visti. Scrivi ora senza impegno a spot.japtv.it o chiama il numero 320 22 45 117. Un grave incendio ha colpito in quest'ora la fabbrica Piberplast di Voghera. Non si segnalano feriti o persone intossicate. Secondo le prime ricostruzioni ottenute dagli addetti alla sicurezza, l'incendio è scaturito dagli impianti fotovoltaici per poi propagarsi nel resto del magazzino. L'allarme è stato dato dai dipendenti che avevano sentito cattivo odore e visto successivamente delle piccole fiamme sui pannelli solari. Sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Voghera e la polizia locale. Allertato anche il comando dei vigili del fuoco di Alessandria e Piacenza. Traffico difficoltoso in tutta la zona. 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 Siamo spaventati. Siamo spaventati.